L'accesso Abruzzo e Molise circuito spettacolo ha dato il via ad un interessante progetto di inclusione, volto a chi è meno fortunato, sensibilizzando professionisti, enti, aziende e cittadini sull'acquisto dei biglietti sospesi, che saranno destinati grazie alla collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato di Teramo, insieme alle associazioni di volontariato della provincia, a persone che non hanno la possibilità di andare a teatro per assistere gratuitamente a spettacoli di prosa, danza, musica, teatro ragazzi e teatro dialettale, in programma al Teatro Comunale di Teramo per la stagione 2019-2020. Quest'anno ACS mette in campo questo biglietto sospeso, un po' come il caffè sospeso napoletano, quindi chiunque potrà fare una donazione che verrà esclusivamente impiegata per l'acquisto di biglietti solidali. Tutte le famiglie, le persone con difficoltà che non hanno la possibilità di venire a teatro per problemi di tipo economico, segnalate dal Centro Servizi Volontariato, quindi dalle associazioni volontariato della nostra provincia, avranno la possibilità di venire a vivere questa magia del teatro. Grazie a voi, grazie a tutti i cittadini, gli enti, le imprese e chiunque voglia partecipare a questo bel progetto solidale. Ci sono due modalità per poter donare. Una è quella della piattaforma di crowdfunding, si chiama Rete del Dono. Voi andate su Rete del Dono, si trova online, e cercate biglietto sospeso. Da lì potete fare una donazione, mentre per le donazioni un po' più importanti, parliamo di imprese, di enti che vogliano fare delle donazioni più importanti e tra l'altro avere uno scomputo dalle imposte del 65%, allora dovranno fare un bonifico specificando nella causale ACS Abruzzo Circuito Spettacolo, con l'Iban, e poter fare così un dono attraverso l'Art Bonus.